Assemblamenti incontrollati durante il giorno. I cittadini di Torre del Greco commentano ai microfoni di TV City le parole del sindaco Giovanni Palomba, che alle nostre telecamere ha parlato di situazione allarmante, annunciando nuove misure con una maggiore presenza delle forze dell'ordine su tutto il territorio. I torresi si dicono preoccupati e lamentano l'assenza di controlli. La situazione è allarmante. Queste le parole del sindaco Palomba riguardo l'emergenza Covid. Cosa ne pensa? Però non prende provvedimenti, non ci stanno controlli per la città. Vedo i bar tutti attaccati, uno con l'altro. Non ci stanno controlli per me. Il giorno dovrebbero essere meno assembramenti per i negozi, i bar. Penso che con attenzione di tutti e per il rispetto specialmente verso le altre persone riusciremo forse ad uscirne da questa situazione. Ci sono delle cose che sono essenziali e non vanno chiuse chiaramente per quanto riguarda il lavoro, però tutto ciò che può essere effimero e bisogna in questo momento farne a meno un po' tutti quanti. L'armante è senza controlli. Innanzitutto manca da loro il vero interesse di fare qualcosa perché né la Giunta né Palomba non fanno niente per la città. Ci vuole molto più pugno. Ha qualcosa da proporre all'amministrazione per la gestione del contagio? Guarda, noi che stiamo al di fuori penso di no, ma chi ci governa penso che sappia qualcosa più di noi. Le vedo in una città con dei cittadini molto ligi al dovere, portano tutta la mascherina. Che altro dobbiamo fare? Non lo so, siamo distanziali. Vado a vedere invece dove stanno gli assembramenti veri, quelli veri però nei mezzi pubblici, di fuori a certi locali, il sabato sera, nei giorni del weekend. Quello deve andare a guardare. Non si può dire che siamo indisciplinati. Sono i controlli che mancano dove ci dovrebbero essere. Non si vede un agente, un vigile urbano, non si vede nessuno per quanto riguarda i controlli. Giustamente come diceva anche De Luca alcune settimane fa, dice io faccio le ordinanze, però se no c'è nessuno che li fa rispettare, che li faccio a fare? Significa che o il prefetto di Napoli si dia da fare a cercare un po' di mobilitare di nuovo le forze pubbliche oppure chi per esse, i vigili urbani che devono controllare gli assembramenti vicino a dei locali o sui mezzi pubblici tipo pulmini che a volte sono strapieni e senza nessun distanziamento. Sono questi controlli che vediamo noi che mancano. E poi forse c'è qualcosa nei ragazzi, nella gioventù, che non sembra aver capito bene la gravità della situazione. Specialmente se si vede il sabato sera, che qui vediamo dei gruppi di tutti i ragazzini, il 90% sono parecchi di loro, vanno avanti senza mascherina, vicino a prendere panini. Lì non c'è nessun controllo. Noi anziani praticamente siamo a casa. C'è i giovani che camminano per strada così senza nessun controllo. Se si fa un lockdown un'altra volta, non so come si va a finire. In quale zone della città rileva delle criticità a livello di assembramenti e quindi la mancanza di controlli? Io penso nella villa comunale, dove c'è un assembramenti, sulla Vesuviana, i posti dove sono tutti i giovani che si raccolgono tutti quanti là. E qua la polizia dovrebbe controllare un po' le forze dell'ordine. Controllare un po', sì è qua, questa zona è qua.